26 Aprile 2012 Anime in ascolto, diffondete la speranza in tutti i cuori che incontrate. Il mio Santo Spirito in questi tempi sta percorrendo i cuori dei Suoi figli della Terra e sta soffiando la speranza, che è virtù cristiana ancora molto importante, perché in un cuore mio che crede e che mi appartiene è più che certezza. Certezza di gioia futura, di salvezza, certezza di Paradiso a lungo sospirato, sotto forma di vita nuova, di tempi nuovi, di cieli nuovi e terra nuova promessi da lunghissimo tempo e ormai qui. Moltissime pecore stanno udendo il richiamo e il loro cuore, grazie alla speranza, si sta aprendo. Speranza di perdono, di nuova vita consona alla iniziale idea del Creatore sulla vita umana e le sue prerogative sulla Terra. Speranza di vedere compiuta finalmente l'opera della giustizia troppo a lungo soffocata ed erisa, speranza di una nuova vita, anche se l'umanità non riesce ancora a definirne i contorni concreti. Speranza di potersi tranquillamente abbandonare al progetto divino per i Suoi figli, che non è che amore. Questa brezza di speranza, che viene direttamente dal cielo, ed è guidata dagli angeli della mia corte e dalla Regina dei Cieli e della Terra, produce benefici diretti, ancora più di una gioia di cui non si conosce il perché, perché la speranza, colma il cuore di una sottile certezza. È questo che in fondo nei vostri cuori è setati, aridi, sofferenti, stanchi, è questo balsamo per rafforzarvi nelle ultime tappe prima del traguardo finale che premierà tutti i vostri sforzi, le vostre fedeltà, la vostra caparbietà non arrendetevi allo sconforto e alle ultime tentazioni del nemico, che sta insinuando nelle menti la distruzione fisica e materiale, ma per chi a lui non si è prostrato, tutto ciò non può accadere. Perché la protezione celeste è su di lui e i miei figli sono sotto la mia protezione tramite la Madre Santissima ed i Suoi eserciti santi schierati. Da sempre io mi sono compiaciuto di usare voi, miei figli, per operare sulla terra a beneficio di altri figli, che sono rimasti indietro nella mia conoscenza e nell'amore mio. Per questo vi mando in mezzo ai lupi rapaci di questi tempi rivestiti di amore e di speranza, vi mando apparentemente a mani nude, ma come il giovane David sconfisse con la fionda il gigante Golia, così voi con il sasso della speranza vincerete tutti i demoni, che cercate di amicondano i vostri fratelli, che ancora ascoltano le tenebrose insinuazioni per tenerli lontani da me. Siate forti nella speranza, gioiosi nella preghiera, perseveranti e fiduciosi e leggerete ogni giorno negli eventi un passo in più che vi avvicina sempre più a me e vi immette consapevolmente nel progetto divino. Stringetevi sempre più compatti nel mio amore di Padre. Da Rosanna, che riceve locuzioni da Dio Padre.